Ladies and gentlemen, prevenuti insieme, voglio presentarvi l'office in corso, ladies and gentlemen, Madonna! E adesso fino al mattino la tecna 360 gradi! E adesso fino al mattino la tecna 360 gradi! E adesso fino al mattino la tecna 360 gradi! E adesso fino al mattino la tecna 360 gradi!